Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere e in questo gameplay walkthrough ci troviamo verso la fine immagino del terzo atto, quindi verso la fine del gioco. Abbiamo appena celebrato il Natale, il Santo Natale appunto, dopo il Perchtenlauf che era un'altra festività molto più locale e pagana di questo villaggio di Tatsing ed ora stiamo tornando a casa nel cuore della notte per vedere come sta nostro padre che purtroppo non ha potuto essere qui alla festa, dato che ovviamente stava male, se vi siete persi gli scorsi episodi vi consiglio di andare a vedere. Guardate che belle anche le orme che vengono lasciate sulla strada, le orme sul ghiaccio e sulla neve, molto molto carino come dettaglio. E detto ciò quindi vi ricordo di lasciare subito un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pentiment e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutti i vostri amici che potrebbero essere interessati ad un videogioco vecchio stile come questo ma con tanto tanto cuore. Allora, e tanta qualità oltretutto, andiamo quindi a casa nostra. Ho la sensazione che possa accadere e infatti possa accadere qualcosa, di notte accade sempre qualcosa. Dio ti benedica e buon Natale Magdalene. Oh buon Natale Suora Marie. Vi abbiamo disturbata con il nostro chiasso? No affatto. Sentire le persone festeggiarle alla nascita di Cristo mi dà grande gioia. Il periodo natalizio serve proprio a infondere coraggio a tutti noi. È stato bello vedere tutti quanti guardare al futuro con ottimismo, specialmente dopo ciò che Tassing ha dovuto sopportare. Oppure Penso sempre che ci sia qualcosa di curativo nel ritrovarsi insieme per celebrare il Natale. Oppure Non c'è niente di medio di un bel boccale di birra e della musica per riscaldarsi dalle cube giornate invernali. Pensavo che non sarebbero mai finite. Facciamo l'ottimismo. La gente di qui ha sofferto molto, ma dobbiamo sempre trovare la speranza in mezzo alla disperazione. È quanto mai opportuno che la nascita di Cristo si celebri quando il sole e il calore scarseggiano. In pieno inverno il Natale ricorda le persone che tornerà la primavera. E tutti noi allora potremo ricominciare a vivere. Magdalene, quello chi è? Attenzione, è l'uomo... potrebbe essere... qualcuno che mi sta pettinando. Oh no, papà! È perché sta andando verso casa nostra. Non rivediamo che è qualcuno che la sta pettinando. Facciamo E tu, aspetta. Vi prego di scusarmi, suora Marie. Devo controllare come sta mio padre. Certamente, Dio ti benedica. Grazie, sorella. Presto, andiamo da nostro padre. Infatti, vedete, non possiamo andare da nessun'altra parte ora. La porta è aperta. C'è qualcuno qui? Papà? Entriamo, entriamo. Dobbiamo andare su, al piano superiore. Oh, grazie a Dio. Sei tu, Magdalene? Cosa succede? Oh, niente, papà. Volevo solo vedere come stavi. Lo apprezzo sempre. Sono preoccupato per te, Magdalene. Tu? Sei preoccupato per me? Stai lavorando troppo. So che il fatto di dover badare a me ti occupa molto tempo. E so con quanto impegno hai lavorato al murale. Vorrei finirlo per Natale, perché ormai ovviamente Natale è arrivato, non può finirlo prima di Natale, come si era promessa di fare. So quanto è importante per te. Oppure, sono ancora giovane, papà. Non mi stanco in fretta come te. So quanto è importante per te. Se hai lavorato così duramente, deve essere importante per te. Certo che lo è. Non ce la farò, Magdalene. Lo so. Va tutto bene. Così è la vita. Sono felice di andarmene prima di te. Anche se entrambi avremmo preferito aspettare ancora un po'. Ho già visto troppa morte nel tempo che ho trascorso su questa terra. Ricordiamoci che lui in teoria dovrebbe rivelarci qualcosa sull'uomo misterioso. Lui sa qualcosa da quello che ci aveva detto. Volevo solo mostrarti cosa sapevo fare. Volevo che fossi fiero di me. Lo sono. Lo sono sempre stato, ogni giorno della tua vita. Non hai mai avuto bisogno di dimostrarmi nulla. Vorrei che mi restasse il tempo di vedere il tuo murale finito, ma non è necessario. So già che sarà più bello di qualsiasi cosa queste vecchie mani abbiano mai realizzato. Non dire così. È la verità. Me la cavo bene, certo. Ma ho sempre saputo che ben presto mi avresti superato. Tu riesci già a vedere cose che a me sono sempre sfuggite. Riesci a vedere cose che poi trasformi in realtà. Non so se è vero. Che io muoio oggi, domani o il giorno dopo ancora, in ogni caso non resterò qui ancora a lungo. Un giorno ti sveglierai e dovrai badare a te stessa. Ama ciò che fai e il mondo ti chiederà di condividerlo. Tutto quello che facciamo nella nostra vita lo facciamo per amore. Oh, quante chiacchiere. Troppe. Potresti portarmi qualcosa da mangiare? Certo, papà. Oggi non hai ancora mangiato nulla. E mi sono anche perso la festa di Natale. Non riesco ancora a credere che nessuno mi abbia portato neppure un biscotto. Vado a prendere un po' di zuppa. Ok, quindi dobbiamo tornare alla locanda Manodoro. Mi sa che verremo sorpresi da qualcuno, eh. Oppure no, lui muore. No! No, questo non me l'aspettavo, sinceramente. Klaus? Mi dispiace, Klaus. Per tutto quanto. Tu. Sei qui. Ho cercato di tenere Magdalena al sicuro. Sta parlando lui? Credo di sì. Ultimamente ho come la sensazione che la mia mente stia andando in frantumi. È Andreas? È Andreas lui. Ma non è lui che mette i bigliettini. Lui è un altro, infatti. Infatti mi aspettavo che colui che avevamo visto alla miniera, con la barba, non fosse l'assassino. Perché continua ad essere convinto che sia Thomas, il prete. E quello che vedevamo alle miniere semplicemente era era una coincidenza, era un altro, era un'altra persona. Con quella barba lunga. Pensavo di potermi, di poter fermare tutto questo. E infatti lui probabilmente sta ancora indagando. E io ero convinto che Andreas non fosse morto. Perché erano morti troppo stupida quella. Pensavo di poter fermare tutto questo. Ma non ci sono riuscito. E sapete cosa sarebbe bellissimo? Se colui che sta scrivendo questa storia sia Kaspar, l'allievo di Andreas che avevamo nel secondo atto. Penso che sia una cosa che molti abbiano previsto in realtà. E sarebbe il tocco di classe finale a questo videogioco che è davvero una piccola perla. Che appunto Kaspar, magari tornando qui a Tassing e parlando proprio con Magdalene e con altre persone, abbia ricostruito tutta questa storia, no? E l'abbia scritta in un manoscritto. Ma non ci sono riuscito. E troppe persone ne hanno pagato il prezzo. Sono ancora tutti lì. Tutti nella danza macabra. Il barone. Piero. Gui. Ferenc. Peter. Otto. August. August. August era la loro figlia, giusto? E ora anche tu. Papà? Oh mio Dio. Sei tu? Chi sei? Cosa stai facendo mio padre? Magdalene, va tutto bene. Va tutto bene. Chiedo scusa. Ho dimenticato le buone maniere dopo tutti questi anni. E tu probabilmente hai dimenticato la mia faccia. Oh, quella che era una volta. Magdalene. Lui è Andreas Mahler. Fantastico. Tornato dalla morte. Il primo ricordo che ho sei tu che corri dentro una biblioteca in fiamme. Ti chiedo scusa. Com'è possibile? Nessuno avrebbe potuto sopravvivere in una situazione simile. Il passaggio segreto della biblioteca ve lo ricordate? Forse sarei dovuto morire. Eppure, eccomi qui. Non capisco, Andreas. Dove sei stato per tutti questi anni? Mi sono nascosto dal mondo. Nelle rovine, per lo più. A volte nel bosco, nella stagione calda. Rubavo il pane a Gret. Rubavo i libri a voi. E grazie a quelli, se non sono impazzito. Solo così la mia mente è riuscita a non dimenticare il significato stesso delle parole. Ma come sei sopravvissuto all'incendio? Quasi per miracolo. Presi tutti i libri che ero in grado di trasportare e li gettai dentro allo scriptorium. Quando il fumo iniziò a farsi troppo denso, persi conoscenza. Ricordo che poi Caspar mi trascinò nella cripta. Il tuo apprendista? Il ragazzo? Lo avevi rimandato a Salisburgo? Non se ne andò. Aspettò nel bosco, osservando ciò che accadeva. Quando mi vide attraverso la finestra della biblioteca, corse nella cripta per salvarmi. E ci riuscì. Ma vide che stavo cercando di salvare i libri e... No, è morto lui! E tornò all'interno. Non riuscivi a fermarlo. Ero a malapena cosciente. Non è più tornato indietro, Klaus. Quindi ogni ovviamente non può essere lui a scrivere il manoscritto. Pessimo tempismo per avervi confessato questa mia ipotesi. Quando mi svegliai erano tutti morti. O scomparsi. Non avevo la forza a ripresentarmi alla gente di Tassing. Non potevo tornare da Sabine. Credevo di essere al sicuro lì. Avevo paura di parlarti. Paura di parlare con chiunque. Cosa è cambiato? Penso che sia cambiato il fatto che Klaus stia per morire. E lui lo voleva salutare prima di vederlo morire. Prima di appunto che potesse morire. Se è stato tu a lasciarci quei biglietti. Ovviamente no. Quelli con l'inchiostro viola. Entrambe queste penso di sapere dove portino il dialogo. Però facciamo cosa è cambiato. Perché sei venuto questa sera? Per aiutarti. Per aiutare Klaus. Aiutarmi. Con la fresco. Aiutarti a sopravvivere. Per poterlo completare. La mano che ha cercato di uccidere tuo padre. Probabilmente colpirà ancora. Ha già ucciso in precedenza. Per impedire che la storia di Tassing venisse alla luce. La storia di Tassing? Perché? Perché la vera storia di Tassing. Contraddice quella che ci hanno raccontato. È stata insabbiata. Granello dopo granello. Strato dopo strato. Fino a renderla invisibile. Ma è ancora qui. Dove è sempre stata. Nascosta sotto i nostri piedi. Ed è ancora protetta. Infestata dallo spettro mortifero che incombe su questo luogo da generazioni. Il burattinaio. Il burattinaio? Sotto i nostri piedi? Ma di cosa stai parlando? Chi ha aggredito tuo padre ha anche manipolato un'altra persona per spingerla a uccidere Otto Zimmerman. E Lorenz Rottfogel? Sì. E quella persona percorre l'acquedotto romano che collega Tassing a Chiersau. È una rete di tunnel che ormai conosco piuttosto bene. E io ho visto il fantasma che l'infesta, capace di insinuarsi in ogni più piccolo passaggio. L'ho visto insinuarsi in ogni dove. L'ho visto arrivare là dove io mai potrei. Ho percorso ogni centimetro dell'acquedotto e della città antica. Ma c'è un luogo che non sono mai riuscito a trovare. L'altro nel quale si ritira il burattinaio. L'antico tempio romano che vuole nasconderci a ogni costo. Quello che Magdalene aveva trovato dipinto nella miniera di sale. Quell'antico edificio, il Mistereo mi sembra si chiamasse. E no, il Mitreo, eccolo, il Mitreo. L'hai trovato? No, ma ho individuato una zona inesplorata che potrebbe trovarsi fra i tunnel crollati. E credo di sapere come arrivarci. Vieni con me, ti farò vedere. Papà? Adesso? Se il burattinaio venisse a sapere ciò che stiamo facendo... Beh, non so come reagirà. Dobbiamo agire rapidamente. E tu starei bene? Sì, non preoccuparti. Proteggi mia figlia, Andreas. La proteggerò a costo della vita, Klaus. Te lo giuro, e infatti secondo me lui si sacrificherà per proteggere Magdalene. Va bene, troviamo il Mitreo. Infatti, ragazzi, già nello scorso video ho detto, sospetto il fatto che Thomas è l'unico che sia Thomas ad andarsene dalla festa, vero? E chi sarà l'unico che troveremo in giro? Oh, ragazzi, l'ho beccato fin dal... Non dico primo episodio, ma... Fin da quando c'è stato l'omicidio di Rotovogel. Top, eh? L'arathouse? Cosa ci facciamo qui? Quando gli uomini scavarono le fondamenta, rinvennero dalle rovine romane sepolte dal tempo. Fortunato, non sprecava mai la pietra, quindi mantenne il muro romano come parete della cantina. C'è un modo per... entrare. Per il luogo nascosto. Tutto bene? Sì. Va bene. Alla Ratzkeller. Guarda di qua. E siamo proprio nell'atto finale, non ci sono più... non c'è più alcun punto di interazione se non quello in cui dobbiamo andare. Questo è proprio il tunnel finale dell'atto. Qui giustamente si è tolto il cappuccio, perché nessuno può più riconoscerlo. Bene. Quel muro è diverso. Vuol dire che siamo nel posto giusto? No. E' diviso in due parti. Nuova e vecchia. Questa parte era in superficie un tempo. Trasportava l'acqua. Guarda. Va bene. Penso di riuscire a leggerla. Cornelius oggi va ai bagni e completa il sesto gradino nel mitreo. Sì, capisci. Intanto se sentite un rumore di sottofondo e un elicottero che sta passando sopra casa mia. No, non sto capendo nulla, Andreas. Dammi un attimo. Vandalo. C'è anche la vibrazione ad ogni colpo che dà del controller. Ma che problema hai? Avrei gradito un avvertimento. Oh, scusa. Non sono più abituato a stare con altre persone. Questo è l'acquedotto. Sì. E? Ci condurrà ai bagni? E da lì al mitreo? Va bene. Ecco fatto. Prego. Dopo di te. Allora. Qui sembra che ormai le scelte abbiano poco... Poca importanza, eh? Nel finale. Manu propria. Capitolo 8. Appunto sembra che le scelte abbiano davvero poco significato ormai. L'importante adesso, quello che vuole farci fare il gioco è semplicemente scoprire la verità. A livello di gioco di ruolo... Non è rimasto quasi più nulla. Bagno pubblico. Questa parte del tunnel è crollata. Di qui non arriveremo al mitreo. Mi pare che... Sì. Io e Caspar troviamo una sezione crollata nell'acquedotto vicino alla città. Lui la esplorò, ma non riuscì a descrivere ciò che aveva trovato nell'oscurità. È vero. Non avrei dovuto lasciarlo andare. Avrei dovuto badare di più a lui. Quando avrei finito di sentirti il colpa, magari potremo proseguire, no? Andreas, non possiamo farci nulla ormai. Sì, certo. Bagno pubblico. La decorazione. Questi erano senz'altro i bagni. Non vedo passaggi. Limo. Inondazione dopo inondazione si è depositato quaggiù. Secoli e secoli di inondazioni. E se non riuscissimo a passare? E se fosse tutto sepolto per sempre? È troppo presto per scoraggiarsi. Continuiamo a cercare. Aha. Altre scale. Ascendere? Cosa potrebbe esserci sotto i bagni? Un ipocausto. Sfruttavano l'aria calda per riscaldare le stanze sovrastante. Erano molto diffusi nelle colonie romane del nord. Speriamo che non si siano riempite di limo anche quelle. Ma andiamo nell'ipocausto. Per caso sai dove stiamo andando? Queste colonne proseguono un po' in tutte le direzioni. Andreas, potresti dare un'occhiata da quella parte? Io mi spingerò in esplorazione qui avanti. No, ma non dividetevi. Che certo. Ah, ora controlliamo Andreas. Ok. Lorenz. Il barone. Come hai potuto abbandonare il tuo lavoro, Andreas? Pensavo fossi un vero artista. Un maestro nel tuo mestiere. No, vanno via se... Ok, devo essere più veloce a leggere. Ferenk. L'unica cosa più penosa di vederti lavorare in quello scrittorio era il tuo amore per quell'arte morente. Ok. Occhio per occhio, Andreas. Tu mi hai condannato. Ma così facendo, hai dannato anche te stesso. Maestro, perché mi avete gettato di nuovo tra le fiamme? Quanto è tormentato questo qua. Perché lui sa che ha mandato a morire gente innocente, eh. È per quello che è tormentato. Non perché... Cioè, non per altro. È che sa che è tutta gente innocente che ha fatto crepare. No, no. Qualcosa non va. È la sua mente che sta andando completamente in frantumi. Non posso trovarmi qui in questo momento. Come ci sono arrivato? Andreas. Beatrice che si era trasformata in malinconia. Sei ancora qui? Sì, ancora per un po'. Stai per andartene? Io sono le ultime vestigie della ragione che un tempo governava questa corte. Quando questa sarà svanita, anch'io me ne andrò. Ma chi la governerà la città, se tu te ne andrai? Nessuno. Devi abbandonare questo luogo per sempre, Andreas. Devi abbandonarlo una volta per tutte. Ma come? Cosa posso fare? Non so nemmeno come sono finito qui. Questo, in passato, era un luogo di rifugio per te, Andreas. Ma è diventata una prigione. Una prigione che hai costruito per proteggerti. Da cosa? Dal dolore. Dall'incertezza. Dalla vita stessa. Ma non posso restare qui. Devo aiutare Magdalena. Come posso uscire? Sei tu l'architetto, Andreas. Farò del mio meglio per aiutarti. Ma solo tu puoi trovare la risposta. Attenzione. Ok, le strade sono sempre quelle bianche. E ci sono tante uscite diverse. Dovremmo provarle tutte. La strada, come sempre, è sempre una sola. Come negli altri labirinti. Ben trovato. Andreas, questa è nostra moglie. Sei tu, Sabine? Sì, certo. Sono ancora qui. Una parte di me sarà sempre qui con te. È da molto tempo che non parliamo. Perché? Tutto è andato in pezzi. Mi facevi tornare in mente Auguste. Infatti Auguste non era la figlia. Era il figlio di Andreas. Morto quando era ancora un bambino. Me lo fai tornare in mente ancora? Non c'è stato solo dispiacere, Andreas. Lo abbiamo perso. Ma abbiamo vissuto quattro anni insieme. Sono stati anni felici, no? Ma è difficile ricordarlo. Questo immenso dolore nero offusca ogni gioia. Lo so. È stato difficile per entrambi. Non ti incolpo di nulla. E dovresti smetterla di incolpare te stesso. Forse è troppo tardi per noi. Ma non è troppo tardi per te, Andreas. Non è troppo tardi per Magdalene. Già, Magdalene. Devo aiutarla. Puoi farlo, Andreas. Ma devi abbandonare questo posto una volta per tutte. Lo so. Posso farcela. E ce la farò. Sì. Ce la farai. Grazie, Sabine. Ti rivedrò ancora? Non in questo luogo. Magari un giorno. In un luogo migliore. In un sogno migliore. Quanti sono belli i dialoghi di questo gioco, ragazzi. Quanto sono belli. Quanto... Da quanto tempo non mi capitava di emozionarmi per dei dialoghi di un videogioco. Così si fa, ragazzi. Maestro Andreas. Oh. Caspar. Sei davvero tu? Sono felice di rivedermi, maestro. Non dire nulla. Volevo solo aiutarvi, maestro Andreas. Non eravate lucido. Dovreste smetterla di sentirti in colpa. Ho deluso la mia famiglia. Ho deluso te. Non sono riuscito a fermare Peter. Non sono riuscito a salvare Tassing. Non sono neanche riuscito a salvare più di un paio di bracciate di libri. Avete fatto il possibile, maestro. Tutti sanno che è così. Ed è il massimo che ognuno di noi può fare. D'accordo, Caspar. Grazie. Grazie per tutto ciò che mi avete insegnato. Aspetta. Cosa è successo? Questa... Questa era l'uscita? Prima che iniziasse a parlare con Caspar, sapevo che questa era l'uscita. La vostra mente sta lottando contro se stessa, Andreas. Ricorda i dolori della vita. E sta cercando di proteggervi. Beatrice? Sì? Pensavo che foste sparita. Siete stato voi a richiamarmi. Oh. Quindi... Cosa farò adesso? Andate avanti. Avanti? Di qua? No, bisogna tornare indietro, allora. E bisogna andare da tutt'altra parte. Da questa parte. Ok. Possiamo andare di qui. Di qua però si torna indietro, quindi no. Di qui. No, August. August. Non dire nulla. Quante notti. Quanti anni sono passati senza vedere il tuo volto. Pensavo di averlo dimenticato. So che non avrei potuto fare nulla, ma... Questo non mi fa sentire meno in colpa. È sempre lì, sotto la superficie. Per quanto io mi sforzi di seppellirlo. E non so come affrontarlo. Io... È tutto a posto. Cosa? Va tutto bene, papà? Davvero? Non devi più nasconderti qui. Ho paura, August. Lo so. È per questo che non puoi restare. Ci sono persone che hanno bisogno di te. È così difficile lasciarti andare. Lo so, papà. Ma devi farlo. Lo so. Hai ragione. Grazie. Ti voglio bene, papà. Ti voglio bene anch'io. Buonanotte, August. Buonanotte. Si sono spostate di nuovo. Le pareti. Sta ancora cercando di proteggervi. No. No? No. Voglio dire... No. Non devo farlo. Questa è la mia mente. Il mio labirinto. Tra l'altro, un labirinto che si collega alla Madonna del labirinto della chiesa di Tasseng. E ne uscirò. Adesso. Bene. Ma quanto accadrà d'ora in poi, potrebbe essere disorientante. Eh! Te. Preciso. Chiamata. La Madonna del labirinto. Questo è l'affresco che c'è in chiesa. Cosa? Non capisco. Non sto capendo nulla. Perché state governando il labirinto? No. L'ho creato io? L'avete preso in prestito? Da dove? Da cosa? Ogni cosa è formata da strati, anche i nostri ricordi. Con il passare dal tempo, le fondamenta vengono sepolte. Non riusciamo più a ricordare come siamo arrivati qui, né cosa c'era prima. E cosa c'era prima? La nostra signora, che veglia sul labirinto così come io veglio su di voi. E anche queste radici affondano nel passato. Non c'è sempre stata una signora a vegliare sul labirinto. Ma c'è sempre stato un labirinto. Cosa? Non capisco. Suor Amalie? Siete reale? Sto ancora sognando? Sei qui, con me. E ci troviamo qui, nello spirito. Siamo ancora nelle rovine? Siamo nel tabernacolo, il cuore del labirinto. Il tuo spirito vagava e il Signore ti ha condotto qui. Ma non capisco. Come avete fatto a lasciare la vostra cella? Non l'ho lasciata. Ci troviamo qui solo nello spirito, Andreas. Ho le alluciazioni. Questo non è reale. non può esserlo. I regni dello spirito sono reali quanto quelli della carne. Abbi fede. Sei qui con me. Significa che lo ha voluto il Signore. Andreas? Suor Amalie? Cosa ci fate qui, sorella? Questo è il centro del labirinto, il tabernacolo. è il luogo in cui il Signore manda il mio spirito affinché compia la sua volontà. Lui ha guidato qui anche i vostri spiriti. Deve esserci una ragione. Ragazzi, questo posto è reale, c'è anche Magdalene. Ed è da qui che Thomas comanda a lei gli omicidi, secondo me. cioè lei ecco lei che gli compie ma è padre Thomas che glielo fa fare. La volontà del Signore? Cosa intendete? Non lo so neanch'io. Non oso comprendere, solo servire. Ed è mio dovere rispondere quando vengo chiamata. Il Signore mi chiama in questo luogo da molti anni. Lui mi ha sempre comunicato la sua volontà. Presto farà altrettanto con te. Corella, come riesce il vostro spirito a giungere in questo luogo? Attraverso la porta tra la vita e la morte. Quando sento la chiamata il mio spirito discende attraverso la mia tomba. Qui il Signore mi dice quali messaggi devo portare e a chi. Ok, quindi lei non è con lei che commette l'omicidio giustamente? ma è quella che porta messaggi. Voi consegnate le messaggi? Sì, una volta molto tempo fa ero una scrivana. Copiai molte opere dai grandi dottori della chiesa. Origene in particolare. Ma tutto finì con l'incendio. Finì con la mia vita. Un momento. Pensavo di aver riposto la penna per sempre finché non tornarono le visioni. Azz inizia a parlare come uno dei monaci e tra l'altro con l'inchiostro viola. Vabbè qua ti fanno capire ovviamente che è lei. No! Quando il fuoco inghiottì la mia abbazia non riuscì a salvare le mie sorelle nemmeno una. sono riuscita a salvare solamente un libro e un rotolo di stoffa. Non riuscivo a capire perché Dio avesse risparmiato soltanto me. Qui non sta parlando dell'incendio dell'abbazia di Kersawa ma se ben ricordate lei era l'unica sopravvissuta che era stata se non sbaglio salvata da padre Thomas dall'incendio dalla sua vecchia abbazia dove morirono tutti tranne lei. Non riuscivo a capire perché Dio avesse risparmiato soltanto me ma lui me lo ha mostrato. Dio aveva un fine superiore per me per la mia mano. Me lo spiegò padre Thomas e lui sa rendere tutto chiaro. Mi dice cosa devo fare cosa il Signore vuole che io faccia. eravate voi per tutto questo tempo siete state voi a scrivere i biglietti. Ne ho trovato uno anche vicino a mio padre quando è stato aggredito. Sora Marie avete spinto quelle persone a commettere gli omicidi? Cosa? No no non può essere vero. Il Signore non si servirebbe di me per un tale scopo. forse non era la volontà del Signore ma la vostra. No o quella di qualcun altro. No non lo farei mai lui non lo farebbe mai i suoi messaggi non parlavano affatto di uccidere no 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 non sono qui niente di tutto questo è vero niente di tutto questo è vero eccolo Suora Marie va tutto bene padre Thomas come siete arrivato qua giù Tassing è un luogo antico nel corso dei secoli ha sepolto sotto di sé molte vecchie strade e gallerie la gente calpesta passaggi nascosti ogni giorno senza nemmeno rendersene conto in verità fu suo rama di riscoprirli per prima e trovare questo posto padre Thomas avete in altre circostanze sarei stato felicissimo di vedervi Andreas in verità sono comunque lieto che siate vivo grazie a dio ma temo che l'occasione di questa riunione sia tutt'altro che lieta voi eravate a conoscenza di questo luogo tutti quegli omicidi li avete commessi voi e suora marì no lei non ha colpe ma i biglietti i biglietti li ha scritti lei sì ma senza comprenderne il fine l'ho guidata le ho detto cosa scrivere quale fine a cosa è servito tutto questo guardatemi intorno cosa vedete greci sono greci o romani quelli rovine romane guardate meglio assomiglia alla statua di san maurizio nei pascoli e alle immagini di santa sazia nel santuario non capisco sono san maurizio e santa sazia e marte e diana come possono essere entrambi i santi e le divinità pagane sono tutt'uno quando i romani abbandonarono tassing i loro edifici i loro templi e le loro statue rimasero i cristiani si stabilirono qui secoli dopo trovarono dei frammenti erosi dal tempo del dominio imperiale questa statua di padre marte che un tempo vegliava sui campi romani era ancora lì senza testa e senza nome i coloni credettero che si trattasse di san maurizio e già che già allora era una leggenda nei luoghi da cui provenivano trovarono i santuari di sazia e non comprendendo che era un aspetto di diana credettero che fosse un'altra santa locale dunque furono le persone a trasformarli in santi la santità non dipende dall'opinione della gente magdalene le persone non possono trasformare qualcuno in un santo più di quanto possono spogliare cristo della sua divinità ma i coloni conoscevano i santi e le leggende della regione e li applicarono alle raffigurazioni che avevano trovato qui nessuno sapeva che fossero divinità romane perché non c'era alcuna testimonianza di cosa avessero fatto e lasciato qui i romani a eccezione morì avvelenato e nessuno sospettò nulla deve essere stato un piano ben architettato magari era perché era vecchio la sua morte fu inaspettata ma io ero l'unica persona cui aveva confidato le sue scoperte nella storia Tassie quando padre Mattias scoprì che non c'erano prove che San Maurizio fosse mai giunto a Tassing che il santuario nei pascoli a lui dedicato era una statua di Marte eretta dai romani centinaia di anni fa e che Santa Sazia era la dea romana Diana decise di occuparsi della questione e voi decideste di occuparvi di lui Andreas la nostra gente crede in San Maurizio crede nei miracoli che Dio ha operato attraverso la sua mano in questo momento sono molto felice di aver scelto di raffigurare nel murale gli dei pagani e i sacrifici umani al posto dei santi e crede nella leggenda di Santa Sazia che aiutò Maurizio e che tuttora veglia su Tassing ma che importa se si sbagliano se i santi non sono mai stati qui? cosa comporterebbe per la mano di San Maurizio? che cosa potrebbe comportare per le persone che hanno pregato lui e Santa Sazia e che credevano che le loro preghiere fossero state saudite? cosa potrebbe comportare per la chiesa che ha dato alle persone una speranza immutabile come una falsa stella in un cielo buio? se le persone avessero motivo di dubitare della veridicità dei santi non potrebbero forse dubitare della chiesa stessa? e dubitare del Vangelo la parola di Dio? forse alcuni lo farebbero ma ci avete sempre detto che dobbiamo accettare Cristo di nostra spontanea volontà sti certo ma tramandare le leggende dei nostri santi non interferisce con la volontà individuale state tramandando una menzogna ho tramandato una menzogna per mettere in luce una verità superiore Dio ha amato il mondo a tal punto da offrire in sacrificio il suo unico figlio se credete in questo se ci credete veramente Dio aspetta la vita eterna i santi hanno camminato tra noi le loro reliquie operano miracoli e loro ascoltano le nostre preghiere ed esaudiscono ma i due santi che proteggono questa città non sono mai stati qui non c'è bisogno che lo sappiano Andreas a volte su queste montagne Dio sembra così distante ma i contadini di Tussing dai loro campi possono osservare la valle e dire San Maurizio è stato qui Dio era con noi lo è ancora e lo sarà per sempre questa è e resterà sempre la verità anche se la leggenda di San Maurizio è falsa così tante persone sono morte a causa di ciò che avete fatto non li dico e pensate che questo giustifichi le vostre azioni perché per lui lui ovviamente si sente giustificato l'ha appena detto lui crede in questa volontà superiore e quindi si sente comunque giustificato in tutto quello che ha fatto non si sente colpevole di niente così tante persone sono morte a causa di ciò che avete fatto so che è difficile da credere ma stavo cercando di salvare dalle vite di prevenire altra morte ma un solo omicidio non è bastato risolvere il problema non è così? perché un bel giorno il barone Rottfogel giunse in città con un'altra copia della storia Tassie una copia che promise di donare all'abate affinché Kiersau potesse scendere a patti con il proprio passato e se padre Guernot ne avesse letto il contenuto avreste dovuto affrontare di nuovo lo stesso rischio che avevate corso con padre Mattias con il senno di poi visto il modo in cui padre Guernot scelse di gestire l'abazia i miei timori potrebbero essere stati infondati pensate che non gli sarebbe importato? che gli importasse o meno penso che l'abate si sarebbe preoccupato soprattutto di salvaguardare l'abazia ma restava comunque il barone viste le sue provocazioni lui sicuramente lo avrebbe detto alla gente prima o poi ma allora perché Otto? di certo non aveva nulla a che fare con la storia Tassie non sapeva nemmeno leggere alla fine il suo omicidio spinse Peter e gli altri a distruggere l'abazia non avrei mai immaginato che sarebbe potuto accadere ho sottovalutato la rabbia di Peter e la frustrazione dei contadini quindi l'avete ucciso per prevenire una rivolta ma avete finito per causarla? sembra che abbiate difficoltà a leggere nell'animo delle persone padre andiamo con la prima è stato qualcun altro a ucciderlo e lo stesso vale per il barone Rottwag cosa? e no fu per prevenire una rivolta ma per impedirli di mostrare alla gente ciò che aveva trovato è vero che Otto aveva trovato qualcosa di molto molto interessante particolare e che quindi pensava di avere in pugno l'abbazia e l'aveva detto soltanto a Martin e poi noi a Martin non abbiamo mai parlato perché ci siamo concentrati su padre Gui che rubava nell'abbazia minchia ragazze sto gioco ciò che aveva trovato mentre aiutava a scavare le fondamenta della Rathaus qualche lascito dei nostri antenati pagani no niente di così antico ciò che aveva trovato era una testa di pietra la testa mancante della statua nei pascoli quella del santuario di San Maurizio azz è quella che aveva in mano la suora com'è finita laggiù? è probabile che la colpa sia da imputare alla pioggia alle inondazioni al passare del tempo Hill mi ha detto che i contadini trovano vecchi attrezzi e ceramiche nei campi ogni anno sì e questa testa rimase nascosta per secoli sepolta fino al giorno in cui Otto la trovò e lui aveva intenzione di mostrare la sua scoperta a tutti come segno che Dio aveva benedetto la città quello che Otto non poteva sapere è che la statua nel nostro santuario non rappresenta San Maurizio perché Otto non era in grado di leggere le parole incise sull'elmo Mars Pater ma l'uomo a cui riferì questa informazione il prete della città lo era come? sì e quindi vi avete detto di incontrarvi alla Rathaus alla vigilia di San Giovanni? no non potevo permettere che distruggesse la fede della nostra città e avete convinto la povera suara Marie a scrivere delle note sostenendo che fossero visioni che non riusciva a ricordare e poi a consegnarle nel cuore della notte a Gui Hannah e Martin affinché uno di loro uccidesse Otto esattamente come qualcuno aveva ucciso Lorenz che mi dite di mio padre? mi dispiace Magdalene perché l'avete fatto? non ha alcun senso è stato a causa del morale? sì Klaus stava dedicando al progetto con si stava dedicando al progetto con la determinazione di un uomo colpevole che fa penitenza e ha continuato a scavare sempre più a fondo in cerca di risposte sul passato di Tassing sul passato di Kiersau temevo che prima o poi avrebbe scoperto la verità su Maurizio sazia su questo posto su tutto quindi avete cercato di ucciderlo? no resta in silenzio è palese l'ho avvertito prima con il biglietto ma lo ha ignorato pensavo che mettendo al suo quadro il laboratorio lo avrei dissuato io non mi aspettavo che sarebbe accorso così in fretta è stato solo un incidente non è stato un incidente lo avete quasi ucciso lo so dunque cosa avete intenzione di fare ora? uccidermi? uccidere Magdalene? no certo che no non ho né i mezzi né la volontà di farlo ma se non posso impedirvi di raccontare agli altri ciò che ho fatto posso impedire loro di trovare questo luogo oh mio dio cos'è? one punch man? no fermatevi padre Thomas è troppo tardi per me ma posso ancora portarmi dietro i segreti di Tassing ma quindi vuole suicidarsi e far morire pure sua Amalie tra l'altro padre ucciderete tutti ucciderete Amalie infatti allora andatemene e portatela con voi potete dire ai cittadini quello che preferite ma se restate qui moriremo insieme davvero vi uccidereste e distruggereste la chiesa solo per celare questo segreto? sì lo farebbe lo sta facendo non potete impedire alle persone di scoprire la verità e il suicidio padre Thomas dovrebbe agire più che altro sul fatto che per i cristiani il suicidio ha qualcosa di sbagliato vediamo come risponde lo considero un atto di fede vabbè ha girato il problema e se così non è sono pronto a risponderle pensa comunque di stare facendo il tutto per un bene superiore padre andatevene andatevene bello che lui muoia con le mani giunte perché nessuno pensa mai di essere cattivo nella storia quindi è bello che l'abbiano caratterizzato così cioè lui pensa davvero di stare a giro per un bene di stare agendo per un bene superiore cioè pensa davvero di star salvando sia i cittadini che la chiesa perché così i cittadini continuano a credere in Dio e nella chiesa e quindi secondo appunto padre Thomas avrebbero meriterebbero poi e quindi la vita eterna avrebbero diritto alla vita eterna e sta proteggendo la chiesa perché ovviamente lui è un uomo di chiesa sa che per lui la chiesa è una cosa assolutamente positiva cioè è anche giusto che l'abbiano scritto così cattivo che alla fine ha fatto quello che doveva tra l'altro per farti capire che lui è convinto di quello che sta facendo lui pensa di stare agendo per fare il bene e si è suicidato pur di non far scoprire alle persone che stavano pregando dei santi immaginari tutto bene? credo di sì tu? a dire la verità no ma sono ancora vivo e anche lei devono averlo sentito dalla mano d'oro l'intera chiesa che crollava? lo spero? che modo orribile di concludere una bella notte di Natale certamente cosa gli diremo? cosa intendi? e qui dovremmo scegliere se dire la verità oppure no ovviamente sì diciamo la verità riguardo a tutto perché non diciamo semplicemente la verità per lo stesso motivo per cui padre Thomas l'ha tenuta nascosta quindi dovremmo premiare i suoi crimini dopo tutto il male che ha fatto? è forse meglio unire la gente di Tussing a cosa gioverà raccontare a tutti di San Maurizio e Santa Sazia? forse padre Thomas aveva ragione su questo se non altro potrebbero perdere la fede io credo che si sbagliasse penso che le persone qui abbiano abbastanza fede da affrontare la verità tu li conosci meglio di me soprattutto dato che manco da così tanto tempo pensavo che una volta capito tutto mi sarei sentita meglio abbiamo scoperto chi ha fatto tutto questo chi ha aggredito mio padre ma tanto non possiamo riportare indietro nessuno non possiamo annullare neanche in parte il dolore che ha causato padre Thomas non potrà più fare del male a nessuno vediamo ora la nota di Thomas cosa dice ah non mi fa aprire la nota ah così ok non dice nulla su padre Thomas ok forse non l'avrebbe fatto mai più ne dubito no penso che tu abbia ragione dovremmo dirglielo dei santi dei romani ogni cosa odio l'idea che fare la cosa giusta mi faccia sentire in modo così orribile mi dispiace anche a me ma continuo a pensare che sia quello che dobbiamo fare allora allora glielo diremo bene dovremmo portare sua ramalita a qualche parte al caldo possiamo portarla a casa mia immagino che tu le debba qualche spiegazione moltissime direi gliele devo da tempo sono contenta che tu non sia morto nell'incendio lo sono anch'io credo buon natale andreas no dai dovremmo tornare indietro fai strada tra l'altro non è la cosa che è piaciuta di più di questo finale perché Thomas l'avevo previsto sua ramali che scriveva messaggi l'avevo beccata Thomas l'avevo previsto per un altro motivo però l'avevo previsto pensavo perché in realtà il barone Rottwogel avesse anche scopato con la Sora Marie e quindi lui voleva proteggere questo segreto che non si sapesse che l'anacureta in realtà era stata aveva perso la sua purezza tutte queste cose qua invece avevo beccato Thomas ma era per un altro motivo poi in realtà andando avanti i miei sospetti su Thomas non sono mai scomparsi anche dopo comunque con l'omicidio di 8 e tutto quanto il collegamento era abbastanza visibile in realtà cioè il collegamento tra la storia di Tassing che tutti vogliono nascondere e Thomas che è l'unico il padre Thomas che è l'unico a continuare con questi santi a dire che non bisogna andare a rimangare il passato a nascondere tutto era abbastanza palese il collegamento effettivamente però la cosa che mi è piaciuta di più di questo di questa parte finale per adesso è come ti hanno rivelato che la figura incappucciata fosse Thomas facendoti scegliere fosse Andreas scusatemi facendoti scegliere il dialogo cioè lì è stato un tocco di classe fantastico perché fino ad ora chi poteva con cosa potevi scegliere i dialoghi con Andreas e con Magdalene gli unici due personaggi con cui potevi scegliere cosa dire e nel momento e nel momento in cui la figura è cappucciata si avvicina a Klaus e ti fa scegliere il dialogo da dire top cioè lì proprio la perla la chicca finale di questo gioco che ti fa capire in un momento senza dirti niente che quello era Andreas poi te lo dice per carità però se hai questa intuizione è molto più bello molto molto più bello Magdalene sei tornata siamo tornati tutti io Andreas e suora Marie suora Marie era in chiesa ho sentito un frastuono terribile e la casa ha tremato va tutto bene? non proprio papà ma le cose si aggiusteranno tu come stai papà? si scusami sono solo stanco siediti accanto a me raccontami cosa è successo per cominciare abbiamo raggiunto la Rathaus o meglio la Ratskeller penso che Andreas potrebbe essere ancora un po' pazzo papà ma no ma perché? sapevi che la parete posteriore era una sezione dell'antico acquedotto romano? lì Andreas ha trovato un vecchio messaggio romano che faceva riferimento al mitreo quindi siamo entrati nell'acquedotto la sezione che abbiamo scoperto doveva essere rimasta inaccessibile per secoli abbiamo scoperto degli antichi bagni pubblici romani non riuscivamo ad attraversarli così ci siamo fatti strada attraverso il livello sottostante mi pare che Andreas abbia detto che era un ipocausto Andreas è stato separato da me avevo davvero paura di averlo perso che entrambi ci fossimo persi laggiù ma poi ho sentito la sua voce in lontananza è vero così sole papà stai ancora ascoltando grazie a tutti Sto che è difficile. O meglio, posso solo immaginare quanto sia difficile. Ma tutti noi faremo del nostro meglio per farti sentire la benvenuta quando arriverai qui. È strano pensare che questa sarà probabilmente l'ultima lettera che ti spedirò. Quindi la concludo dedicandoti tutto il mio affetto. Esther Magdalene Partiremo con Gnazio Incipit Il capitolo finale si chiama Incipit Sì Mi dispiace disturbarvi, ma volevo farvi sapere che è tutto sistemato. Baltas ha provveduto alla gestione di tutte le questioni finanziarie. Il denaro vi verrà inoltrato tramite la Rich's Post non appena sarà tutto sistemato. Lo apprezzo. Ringraziatelo da parte mia. E non lasciate che dimentichi la commissione per il lavoro. No. Ringraziatelo di tutto. Certamente, signorina Drukarin. Non conoscevo bene vostro padre, ma so che era stimato da tutti. Sembra che Tassing abbia perso qualcosa di più di un solo uomo. Mi dispiace molto. Sono passati comunque quattro mesi circa. Grazie. Vi auguro buona fortuna. Ok ragazzi. Vediamo cosa c'è da fare in questo momento. Possiamo solamente uscire. Uh, potremmo parlare con tutti? Sì, maggiori sì. Siete sicura di avere tutto ciò che vi serve, Magdalene? Credo di sì. Grazie. Vi ho preparato qualcosa per il viaggio. Ci sono camomilla, cannella e farina di frumento. Se mentre viaggiate vi venissero i crampi... Certo, ne farò buon uso. Beh, la ricetta di Hildegarda prevedeva solo camomilla e farina di frumento. Ho aggiunto la cannella per il gusto. Mi dispiace tanto per quello che è successo a tuo padre. Grazie. Madre Francisca ci ha esortate a pregare per lui. E anche per voi, quando ha saputo che stavate per partire. Davvero? Che gesto premuroso. Vi prego di ringraziarla da parte mia. Lo farò. Mancherete moltissimo a tutti noi, Magdalene. Anche voi mi mancherete. Dio benedica. Buon viaggio. Eh ragazzi, tocca parlare con la gente. Godiamoci questo finale. Magdalene, non riesco a credere che tu stia davvero partendo. Mi mancherete tutti moltissimo. E mancherà ancora di più ai ragazzi. Al tuo, di sicuro. Quindi si è comunque messa con Hots. Oh, non prenderlo in giro. Credo che stia passando un gran brutto momento, anche se non lo dà a vedere. Mi dimenticherà abbastanza presto. Forse. Ma tu sei una ragazza speciale, Magdalene Druckerin. Capisco perché te ne stia andando. Dio sa che hai le tue buone ragioni. Ma Tassi non sarà più la stessa senza di te. Fai buon viaggio. E che Dio ti benedica. Eccolo qui, Hots. Oh, ehm. Ehi, Mags. Mi spiace davvero per tuo padre. È sempre stato gentile con me. Mia madre dice che era un bravo uomo. Dice il vero. Beh, grazie. Ora devo andare. Max! Magdalene. Sei sicura? Di non volermi sposare? No, dai, addirittura. Ve l'abbiamo trattato male fino adesso. Continueremo a trattarlo male. Preferirei farmi fracassare il petto dalla macina più pesante di Polo. Prenditi cura di tua madre, Hots. E niente, questo Hots non lo volevamo. Ah, quindi Elias, o Elias, ora è diventato padre, qui dentro. Buongiorno, signorina Drucarin. State per partire? Sì, padre. Sono gli ultimi saluti. Naturalmente. Mi dispiace non aver avuto occasione di conoscere meglio voi e vostro padre. Dio l'abbia in gloria. Spiace anche a me. Non permettete a quei boemi di mettervi in testa idee eretiche. I loro semi perniciosi possono mettere radici e soffocare la vostra fede. Terro alta la guardia, padre. Bene, bene. Conservate la vostra fede. Dio vi benedica, padre Elias. Dio benedica voi e vostri viaggi. Eccola qua, Marie. Dio benedica anche voi, sora Marie. Party oggi. Adesso lei parla sempre con l'inchiostro viola perché ormai l'abbia scoperta. Già, fra poco andrò al mulino. Sono veramente dispiaciuta per tutto quello che è successo. Lo so, è acqua passata ormai. Grazie per avermi aiutata. Sapete già cosa farete adesso? Tornerete a essere un'anacoretà? Sinceramente, non lo so. Padre Elias sta cercando di aiutarmi ma... Devo imparare a fare un po' più affidamento sul mio giudizio. Occorrerà molto tempo perché si possa coppia... Si possa... Perché io possa espiare le mie colpe per ciò che è accaduto. Il resto della mia vita, forse. Dio sa che non volevate fare alcun male. Egli lo sa, ma il male è stato fatto. Scriverò un resoconto di ciò che è accaduto qui. O almeno di ciò di cui ho memoria. Quindi sarà lei a scrivere il manoscritto del gioco? Anche se non sarà sufficiente a procurarmi il perdono, prego che almeno farà luce su questa storia una volta per tutte. No, a volte nelle tenebre, scusatemi. Bene, è giusto che venga ricordata. Dio vi benedica, Sora Marie. Dio vi benedica. Anzi, Dio ti benedica e ti protegga durante i tuoi viaggi, Magdalene. Ok, continuiamo. Non possiamo andare di qui? Possiamo andare nel mulino, però. Dove ci sono tutti gli altri. Els. Magdalene, cara. Vorrei che rimanessi con noi. I piccoli Andreas e Uri che sentiranno molto la tua mancanza. Mi mancheranno anche loro. Tassing non è il posto adatto a me, è giunto il momento di partire. Troverai la felicità là fuori, da qualche parte oltre le colline e le valli. Lo sento nel mio cuore. Dio si prende cura di te come fa con tutti noi. Lo spero. La speranza è quella che ci fa andare avanti. Forse un giorno passerai di nuovo a trovarci, con la tua famiglia a seguito. In tal caso non mancherò di scriverti prima. Ma certo, scrivi. A volte penso ancora a tutte le vite e i luoghi che ci sono là fuori. Quando ero più giovane, sognavo spesso di viaggiare, di visitare i vari regni. Ma ora ho trovato la pace. Qui e ora, a Tassing. Nonostante tutto quello che è successo. Con tuo marito? Era un uomo orribile. Penso di... no. Penso che lui... Sì, è stata colpa sua. Agnes diceva sempre che... Era colpa sua. Ma poi, più tardi... Mi ha dato Paul. Almeno, ho avuto Paul. E noi due insieme siamo sopravvissuti a quei tempi spaventosi. Quando Paul e Anna si sono trovati, dopo tutto quello che avevamo sofferto, è stato un miracolo. I miei bambini adorati. Senza di loro non avrei mai avuto i piccoli Andreas e Ulrike. Ah, sto divagando. Stai attento lungo la strada, mia cara Magdalene. Sono ancora a tempi pericolosi. Starò attento. Buon viaggio. Mi sono... mi chiedo se... Andreas abbia comunicato la sua... Eccolo qui, Andreas. Sì, ok. Se... 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 fatto vedere. Siete sicuri che vado bene così? Certo, Andreas. È un aspetto del tutto rispettabile. Sei ancora un po' malconcio, ma è un aspetto decisamente migliore di prima. Le signore sono state gentili, aiutandomi a darmi un'aria pulita. Temo di aver dimenticato come prendermi cura di me stesso. Alcuni direbbero che ti sei preso cura di te stesso in modo ammirevole. Quanti uomini qui sarebbero riusciti a sopravvivere in una cantina bruciata per quasi vent'anni? Sostentandosi con la nostra sega descartata? Per di più. Mi dispiace tanto. Andreas, te l'abbiamo già detto. Adesso è tutto a posto. Magdalene. Ciao, Magdalene. Stai per partire? Ciao. Sì, viaggerò con la vostra farina fino a Mittenwald. E poi procederò lungo l'Isar. Mi dispiace che tu parta, Magdalene. Ma spero che Praga ti offra tutto ciò che hai sempre sognato. Fosse anche solo la metà di come l'ha descritta Esther, sono sicura che l'adorerò. Hai la possibilità di farti una vita laggiù. Dio sa quanto ho sprecato la mia. Usa il tempo a tua disposizione e usalo bene. Lo farò. Non so come, ma ci riuscirò. Vorrei che avesse potuto vederlo, Andreas. Lo so. Mi sarebbe piaciuto moltissimo. Lo spero. Magdalene. Se le schiere angeliche lo avessero ascoltato sulla terra per ammirare la tua opera, anzi sulla terra per ammirare la tua opera, anche loro avrebbero versato fiumi di lacrime. Ora so che stai solo cercando di farmi sentire meglio. È sempre stato fiero di te. E lo sarebbe anche adesso. Magdalene, volevo farti una domanda sul murale prima che tu parta. Sì? Pensavo che avrebbe dovuto occupare l'intera parete. Perché hai lasciato una sezione vuota? Per il futuro? A meno che la storia di Tassing non si fermi nel momento stesso in cui imboccherò la strada. Credo che il tuo carro stia per partire. Ah, è vero. Non c'è mai abbastanza tempo per i saluti. Bello che dica non c'è mai abbastanza tempo per i saluti, perché non ti dà la possibilità di tornare indietro per salutare altre gente. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per la mia famiglia. Cioè, davvero non c'è abbastanza tempo per i saluti. Che Dio ti benedica, Andreas Mahler. Ma quindi non possiamo vedere il murale? O adesso noi controlliamo Andreas? Andreas? Tutto bene? Mi sono perso. Non ti preoccupare. Sei libero di stare con noi per tutto il tempo che ne avrai bisogno. E poi non puoi andartene ancora. I bambini hanno bisogno delle tue competenze. Oh? Sono ai piani superiori del murino, sul ballatoio. Ah, è vero, guardali là. Vi farò trovare la cena pronta quando avrete finito. Ricorda che sia sempre il benvenuto nella nostra casa, Andreas. Grazie. È vero, sono lì loro. Però io vorrei... Posso tornare indietro? No. Volevo andare a vedere il murale. Qua non possiamo andare da nessun'altra parte, possiamo solamente salire. Piattaforma del murino a vento. Qua non serve... Qua non serve? Grazie. Eccolo un murale, te lo fanno vedere qui. Sacrifici umani, ho scelto quello come primo. Questo dovrebbe essere Percita. Sacrifici umani per il favore di Percita. Poi avevamo scelto di raffigurare la storia della fondazione dell'Abbazia. E infatti guardate lì, lei, la prima badessa che fonda l'Abbazia. Che fonda l'Abbazia sulle rovine romane. Otto. Che fonda l'Abbazia sulle rovine. E poi la verità. La verità che sotto la chiesa ci sono in realtà rovine antecedenti ai romani. Te rovine romane, scusatemi. Antecedenti ai cristiani. Eccolo lì, la verità. Con il labirinto. Magdalene Druckerin, la sua firma. Gli alberi genealogici della città. Vaxlav è stato ucciso a rovo. What? Ah, perché gli abbia andato di perseguire i suoi interessi esoterici. Ed è finito a rogo. Quanto adoro quando fanno queste cose. E te lo fanno capire da un minuscolo dettaglio. La fine di una storia. Beh ragazzi, quindi con il sblocco dell'obiettivo, non mi viene la parola, del terzo atto, quindi della fine del gioco. Non so se ci sarà un'altra parte dopo i titoli di coda. Magari di Magdalene e Esther che si incontrano a Praga. Però, che dire, in questi titoli di coda tra l'altro silenziosi e senza musica, perché la musica c'è stata già prima, durante il finale, vero e proprio del gioco. Non ho davvero niente da dire se non complimenti a queste tredici persone che hanno lavorato per Antiment. Hanno creato un videogioco fantastico. Davvero molto bravo. Visto che il voto medio è circa otto. Ecco, secondo me il voto medio è circa otto, parlando delle recensionese, cioè, parlando delle recensionese, il voto medio è circa otto, perché qua questo gioco secondo me merita anche, merita un otto pieno in generale, cioè non otto così regalato, perché è un videogioco, un'avventura grafica, quindi premiamolo un po'. No, no, questo è una signora avventura grafica. Questo è un videogioco, mamma mia, c'è anche l'aspetto grafico, l'aspetto estetico, è bellissimo. È bellissimo, le intuizioni che ci sono, i dettagli, la cura per il dettaglio. È qualcosa di incredibile. E vi faccio presente che, per la stessa missione del direttore del progetto, questo videogioco non sarebbe potuto esistere senza il Game Pass. Cosa vuol dire questa affermazione? Vuol dire che, stando in un modello di vendita tradizionale, ovvero io faccio uscire il gioco e la gente deve comprarlo affinché io rientri nell'investimento, questo videogioco non sarebbe mai rientrato nell'investimento, nella produzione, quindi non sarebbe mai stato creato. Pochissime persone avrebbero comprato questo videogioco. Ma grazie al Game Pass tantissime persone, se lo sono ritrovato nel servizio, lo stanno giocando, l'hanno giocato, l'hanno scaricato e hanno potuto scoprire quindi un videogioco bellissimo, ma soprattutto hanno potuto anche far guadagnare gli sviluppatori e hanno potuto rendere questo progetto profittevole. Cosa che senza il Game Pass non sarebbe potuto essere. Questo vuol dire la frase che senza il Game Pass Pantiment non sarebbe mai esistito. Io sono contento di aver giocato questo videogioco, non gli davo una lira, devo essere sincero. Pensavo che sarebbe stato un videogioco un po' tappabuchi, un po' creato così alla meglio, giusto per tappare un po' questo buco di questo 2022 un po' povero di uscite first party da parte di Microsoft e da parte di Xbox. E invece si è rivelato una mina questo Pantiment. Pantiment è una mina, certo è di nicchia, quindi non andrà mai ad essere una killer application, non diventerà mai l'esclusiva che ti fa comprare l'Xbox, ma non vuole nemmeno esserlo. È un gioco di nicchia che però è fatto da Dio, è fatto davvero bellissimo, tanto da Dio in tema con il tema di Pantiment. È fatto davvero molto molto bene. Il mio voto personale, se dovessi dare un voto personale a questo gioco, serve anche un 9 su 10. Ha qualche pecca, nel terzo atto diventa molto meno ruolistico, per esempio, le conseguenze del murale che abbiamo fatto noi non le vediamo. Cioè non vediamo le conseguenze del fatto che abbiamo scelto di rappresentare dei sacrifici umani o le scelte se avessimo rappresentato dei santi, non vediamo le differenze. Però magari nel finale avremmo potuto far sì che Thomas si salvasse, cioè che non si suicidasse, se avessimo consentito a non dire nulla. Chi lo sa. Questo sono curioso di appunto vedere come cambia il gioco ad una nuova partita, facendo ovviamente scelte diverse, provando magari a stare dalla parte dell'abbazia, provando ad essere un prete duro e puro, un miniatore proprio con la fede assoluta. E vedere come cosa cambia, cioè ad esempio accusando Martin nel primo omicidio, accusando poi altre persone della città, non accusando mai gente nell'abbazia. Thank you for playing. Grazie, prego. Molto bello questo gioco, devo dire. Complemente. E bisogna vedere appunto come va la rigiocabilità, perché questo è un gioco che penso punti molto sulla rigiocabilità. E infatti ora possiamo fare solamente una nuova partita, non possiamo continuare con la precedente, non possiamo riprendere da un punto di salvataggio diverso. E niente, grazie, che dire. Quindi sono passati anche i titoli di coda. Io vi ricordo quindi che questa serie finisce qui. Inizierà una nuova serie dopo di questa. Vedremo un po' cosa portare. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, questa serie fino alla fine. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, se lo avete gradito. Di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di Pentiment. Se volete spoilerare qualcosa sul finale, mi raccomando, avvertite anche se tecnicamente, se qualcuno apre questo video, il finale lo vuole vedere, se l'ha già visto. Quindi, ecco, siete anche un po' più liberi di spoilerare sotto questo video. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti e le prossime serie. Quindi, da Glaciosphere è tutto. Al prossimo video. Al prossimo video.